Si vedono gli occhi che si muovono Benvenuti nel primo video natalizio di quest'anno Il Natale non è propriamente la mia cosa, cioè io sono più una da Halloween Però mi andava di decorare il muro, ok? E quindi ho detto farò dei video a tema E per me una cosa molto natalizia è Star Wars Lo so che non c'entra niente con il Natale effettivamente Però il fatto che i film siano sempre usciti nel periodo natalizio Ormai mi fanno associare Star Wars al Natale E quindi è da parecchi anni che ormai ogni Natale io faccio un rewatch di tutta la saga E quest'anno, visto che non abbiamo nuovi film in uscita Mi sembrava giusto fare una tier list Quindi classificare tutti i film di Star Wars e tutti i personaggi di Star Wars Tutto questo richiederà molto impegno E soprattutto da parte vostra molta pazienza Perché come al solito le tier list sono delle classifiche personali Basate sui miei gusti personali Quindi non sono in alcun modo delle cose oggettive Quindi ecco, se metto dei film molto in alto Non ve la prendete, per favore Vi prego E soprattutto se metto certi personaggi molto in alto Non ve la prendete Ok? Ok Per rendere frizzantino il tutto, come sapete A me piace dare delle mie personali categorie E qui le ho personalizzate Al primo posto abbiamo Supreme Leader Al secondo posto Jedi Poi ci sono i droidi Poi Jabba E infine Jar Jar Binks Che mi sembrava il giusto successore di Monnezza Dunque, non induggiamo oltre e procediamo Il primo film che vedo qua Se non sbaglio è il primo Sapete che io non vedo niente E questi, questi cosi sono molto piccoli Quindi potrei confondermi Comunque, se non sbaglio questo è il primo Star Wars Quindi episodio 4 Allora, episodio 4 a me piace molto Però non me la sento di metterlo in Supreme Leader Sono molto indecisa se metterlo o su Droids Oppure su Jedi Allora, facciamo che per adesso lo metto qui Su Jedi Poi magari lo sposterò Proseguiamo Abbiamo episodio 2 La sabbia Anakin Te capiamo Oddio, non saprei dove mettere episodio 2 Perché mi piace episodio 2 Più da episodio 1 Però meno di episodio 3 E anche meno di episodio 4 Quindi Categoria Droids O Droide Insomma Qua c'è una roba che non so che cos'è Scusate Io sto film non l'ho visto Quindi Cioè Boh Lo metto in Jar Jar Così a caso Episodio 5 Io adoro episodio 5 Bello Bello, bello, bello Però io so già cosa metterò in Supreme Leader E vi farà molto arrabbiare questa cosa Ma Facciamo che lo mettiamo qua e spostiamo Però con episodio 2 me lo metti Ma dai Allora teniamo le cose così per il momento Allora questa tier list è difficilissima Ero convinta di avere tutto nella mia mente No? Cioè ero convinta di sapere perfettamente dove mettere le cose Invece niente Oh mio Dio Holiday Special Allora lo metterei in Supreme Leader Solo per amore del trash E soprattutto per il fatto che tutti gli attori negano Negano questa cosa Negano che sia successa E questo me lo fa amare moltissimo Ah sì lo metto qua Rispetto per l'Holiday Special Il ritorno dello Jedi Il ritorno dello Jedi Bello Però non bello quanto l'impero colpisce ancora Lo metto qua in droide Per forza Cioè che fai Episodio 3 raga Per me è bellissimo C'è uno dei miei preferiti Tutta la scena con Obi-Wan e Anakin Tu eri mio fratello Feels Feels Quindi devo metterlo in Jedi Per forza Come si fa? Come si fa? Con Rogue One ho un rapporto un po' particolare Perché Perché è stato mi sa il primo film di Star Wars Che ho visto al cinema Purtroppo io non sono riuscita a vedere Episodio 7 al cinema E poi vabbè i prequel C'avevo due anni raga Non precisamente due Però insomma A quei tempi stavo a pensare Anna Montana Capito? Quindi insomma Mi piace molto Però allo stesso tempo Preferisco altri film di Star Wars Non lo so Me lo metto in giabba Ma non perché sia brutto Ma perché non può stare Insieme agli altri Capisci? Cioè No No O forse sì Cioè Potrei metterlo anche in droide Sì Sì Solo Allora Non lo metto in jar jar Solo per amore Nei confronti di Donald Glover E di Emilia Clarke Quindi andrà in giabba Ma Con molto risentimento Un'altra roba che non riesco a capire cos'è Quindi sicuro è una roba che non ho visto Scusate Ma è un'altra cosa strana Cos'è? Perché non capisco Vabbè Noi mettiamo le cose what the fuck Sempre in jar jar Così a buffo Clone Wars Allora di Clone Wars ho visto veramente tre episodi Raga Quindi Che devo dire O non è Clone Wars? Sì sì è Clone Wars Non lo so Cioè non so dove metterlo Allora io lo metterei insieme a giabba Ma semplicemente perché Perché non l'ho visto veramente Cioè non conta Non conta Quindi sta lì Ma Ma così perché non c'è un altro posto per lui Non prendetevela Clone Wars è molto bello Giuro prima o poi lo vedrò Però insomma Episodio 7 Bello Ma non troppo Io lo metto qui Insieme ai droidi Però non so se me la sento di metterlo vicino agli altri Cioè secondo me va in giabba O no No però a me piace Cioè io lo lascio dov'è E sti cazzi Siamo arrivati al momento in cui mi odierete Moltissimo Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so che siete arrabbiati E dite Oh mio Dio Episodio 8 Lo schifo Come ti permetti Di metterlo addirittura Prima degli originali Sentite Allora Episodio 8 È stato il primo Star Wars Della saga Star Wars Che ho visto al cinema Perché purtroppo Appunto Episodio 7 Non sono riuscita a vederlo Ed è stata un'esperienza Bellissima Bellissima In più Secondo me Episodio 8 È molto bello Ci sono dei momenti Particolari Sì Proprio quello che state pensando E secondo me Si merita di stare dove Almeno per il mio gusto Personale Ok Ok Proseguiamo Episodio 1 Regà C'è Ok Dark Maul Quello che ve pare Però c'è Dio Georgia Binks Non lo reggo E poi Gli sgusci Quella scena dura Veramente troppo È una noia mortale Mi dispiace Ma no Quindi va subito qui Cioè No Vi giuro Episodio 1 È proprio quello Che non riesco a riguardare Infatti salto i pezzi Cioè vado alle cose importanti Salto perché Episodio 9 Allora voi sapete che io Lo metterei in Supreme Leader Solo per una ragione Ma non se lo merita Per niente Dove lo mettiamo? Lo mettiamo in droide Sì Cioè Sì 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 Che dire Penso mi odierete tantissimo Per questa classifica Però Cioè secondo me Rispecchia molto Il mio gusto personale In fatto di Star Wars Cioè Episodio 8 Me lo riguarderei Fino ai vomiti E anche Episodio 5 E episodio 3 Poi tutti gli altri Tutti quelli che stanno in droide Mi piacciono molto Però non sono quella cosa Che mi smuove Proprio l'anima E poi Cioè da Giabba in giubo Cioè Sì bello perché Star Wars Però Anche meno Bene È stato divertente Possiamo passare Ai personaggi Ho molta paura Qui come potete vedere Si aggiunge una categoria Che è la categoria Who the fuck are you Perché ovviamente Non avendo visto Le serie di Star Wars E anche alcuni altri film A quanto pare Di cui non conoscevo L'esistenza Ecco Ci saranno un sacco di personaggi Che io O non mi ricordo O non ho mai visto E quindi Li metteremo in Who the fuck are you Partiamo benissimo Perché iniziamo con Anakin Li voglio troppo bene Lui va subito In Supreme Leader Yeah Oh mio Dio Obi-Wan So cute Ti devo mettere qui Cioè come si può Come si può Come si può Iwan McGregor Gesù santo Qui-Gon Non penso niente di Qui-Gon Quindi lo metterò in In Giabba Cioè gli VB però Chi se ne frega Padme Le voglio bene Le voglio bene Però non mi smuove L'anima Quindi la metteremo In Jedi Perché comunque R2 Ci voglio molto bene Ad R2 Però anche lui Cioè anche lui Secondo me Deve stare in Jedi Perché Cioè perché Quando vedo Anakin E Obi-Wan Non ho la stessa reazione Di quando vedo R2 Capito Cioè Sembra una cosa Sessuale Ma non lo è Cioè vi giuro Voleva essere Andiamo avanti Tipo questo Chi è? Chi sei? Who the fuck are you? Subito Chi sei? Ma non mi ricordo di te Yoda Piccolo Angelo Anche Yoda va qua Va in Jedi Perché Bello Ma Non è il mio prefi Vabbè ragazza Ma per favore C'è il suo nome C'è il suo nome Sulla categoria Proprio Palpatine Palpatine Va qua Palpatine Me stai simpatico Perché a me piacciono i cattivi Però Però Sei anche un po' Una spina nel Quindi ti metterò Qui No però Allora C'è È una classifica Di No si Stai con Jar Jar Ok maestro Windu Non so dove Metterlo Droide Perché sta Nella media Sta nella media Un po' Più di Qui-Gon Ma in realtà No Per nome La sento di Metterlo con Jabba Quindi si Può stare In droide Hello There Dove Te mettiamo Te mettiamo qui No però Aspetta La tua scena è bellissima Quindi ti meriti Di stare un po' Più sopra Darth Maul Anche qui Boh Regà Cioè io Non sono così smossa Da Darth Maul Ve lo dico Sinceramente Cioè Bel personaggio Però a me more In una scena Capisci Cioè Lo vediamo Quattro Quattro minuti Insieme a Qui-Gon Fate la stessa fine D'altronde No Ups Questo coso Me lo ricordo Vagamente Chi se ne frega Ti mettiamo In Giorgio Lui Ho presente Ma non mi ricordo Come si chiama Anche tu Cioè Qui proprio Non mi ricordo Neanche come ti chiami Per favore Sto coso uguale Boh Lo mettiamo qua Questo pure Cioè No qua Who the fuck are you Perché non me lo ricordo Ah questa è coso Vabbè Dovete capire Qui perché Chi se ne frega Chi se ne frega Chi se ne frega Non capisco se sia Boba Fett O Erbabbo Perché non vedo bene La cecità Quindi Ah no è qua Boba Fett Ok ok Quindi Erbabbo Erbabbo Lo mettiamo Ma ti mettiamo qua Insieme a loro A caso Boba Piccolo Boba Piccolo Boba Piccolo Boba Piccolo proprio Chi se ne frega Di te Oh mio dio Quanti nemici Mi farò Dopo questa classifica Anche qui Ma chi sei Io poi veramente Sono terribile Per i personaggi Perché non mi ricordo Niente Cioè ho la memoria Di Non un pesce rosso Peggio Quindi cioè A parte i personaggi Principali Che vedi 400 volte Io non mi ricordo nulla Questa è la mamma Di Anakin Giusto Cioè anche di te Chi se ne frega Ti mettiamo qua Cos'è questo Ah uno di quei mostriciattoli Via Cioè Cos'è questo Il padre di Giar Giar Cioè Who the fuck are you Sto tizio con l'occhio Cioè senza occhio Raga non mi ricordo assolutamente Chi sia questo personaggio Quindi Who the fuck are you Same Questo qui Questo cos'è Gli amici di Chewbac Può essere Ma lo mettiamo comunque In who the fuck are you Ah questo è il tizio Che schiavizzava Anakin Un po' mi faceva ridere Però lui Cioè è fastidioso Però mi fa ridere Quindi lo metterò Insieme a loro Ah questa è la specie Di mostro Con cui Devono fare gli accordi Ma chi se ne frega Allora questo non capisco Se è la tipa Che prendeva il posto Di Padme O è Padme Ma non credo Perché è gli Padme Quindi Boh Cioè Chi se ne frega Oddio Questo tizio Mi infastidisce troppo Questo personaggio Quindi lo metterò In Jar Jar Per lo stesso motivo Per cui Jar Jar È in questa categoria E anche perché Questa categoria Si chiama Jar Jar Qui ha altra gente Di cui io non mi ricordo Ma chi è questo Chi sei Non lo sappiamo Stessa cosa per te Who the fuck are you Luke Io ti voglio molto bene Cioè Veramente tanto Quindi Ti metterò in Jedi Oppure Oppure in Supreme Leader No In Jedi Leia Piccolaccia Vabbè Scusate Subito Subito Qua sopra Perché si merita Solo di stare Lassù Nell'iperuraneo Poi Han Vabbè Han Subito insieme a Leia Meraviglia Delle meraviglie Gli voglio troppo bene Ogni volta che entra in scena In episodio 5 Vorrei svenire Dart Dart Ti voglio bene Però secondo me Tu devi andare in Jedi Perché Anakin è molto più figo di te Mi dispiace C3 C3 il mio droide preferito Mi fa super ridere Quindi va subito in Supreme Leader Subito Cioè se lo merita Di stare lì su Obi-Wan Anziano C'è stai E VB Però Però sì Cioè così Ma Palpatine cattivo Palpatine cattivo Va qua Sì Dai C'è stai It's a trap Dove ti mettiamo Dove ti mettiamo Colonnello È un colonnello Mi sa di sì Ma Ti mettiamo qui Perché Ti VB Ma neanche tanto Cioè Simpatico però Anakin Piccolo Schiavo È irritante Ha dei livelli incredibili Sto bambino E in più Non lo perdono mai Per tutta la scena Con gli sgusci Quindi Stai con Giabba Sti due Boh Io li metto qui Penso Cioè So che sono della ribellione Però Chi se ne frega di loro Scusatemi Stessa cosa Sto qui Ma chi è questa gente Non lo so BB8 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 è carino Gli voglio bene Lo mettiamo qua In Jedi Dai Sì Ah il tizio di Solo Non mi ricordo Su nome Boh Qui Sì La zia di Luke Ma anche tu vai qua In George R Cioè Boh Questo tizio Ho presente Ma non mi ricordo Come si chiama Non mi ricordo Cosa fa Quindi lo metteremo qui In Who the fuck are you Anche se ho presente Il suo aspetto Ah qua mi fa rodiare Da tutti Però io Boba Fett Cioè non capisco La pill Una cosa fa Questo personaggio Ed è cadere Quindi Cioè Fica l'armatura Quello che volete Però Boh A me Boba Fett Non mi smuove niente Quindi dove lo mettiamo Mettiamo qua Cioè Chi se ne frega Questo chi sarebbe Io non l'ho mai visto Who the fuck are you Same Who the fuck are you Lando giovane Non voglio bene Lando giovane Mettiamo Qua Sì dai Vicino a BD8 No però Same Same Questo è coso Il tipo di 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 Rogue One Se ne frega Chewbecka Ciwbecka deve andare sopra In alto Subito Qua Supreme Leader Sì Sì Ciwbe vai Vai su Vai su Ah questo è il tizio Jedi Boh C'è una raga Inutile Un po' più sub Perché mi sei più simpatico Degli altri Anche tu Benicio del Toro Io ho adorato Il suo personaggio Mi piaceva un sacco Lo mettiamo qua Ah questa è la tizia Di coso Non mi ricordo Raga mi ricordo niente Però so chi è La mettiamo qui Perché anche in questo caso Chi se ne frega Finn Piccolo Ancelo Ti meritavi molto di meglio Frati io ti metto qua Ti meriti di stare tra i Jedi Questo non so chi sia E subito qua Grido Raga però se lo merita di stare qua E stare in droidi Cioè un po' un po' sì Han da giovane Finto giovane Guarda Han anziano Piccolo Angelo Ci abbandona di troppo presto Aspettate Aspettate Lo mettiamo qui Cioè non è come l'Han Della saga originale Però Holdo Solo per i capelli La metterei in Supreme Leader Però vabbè La mettiamo qui Axe Axe è uno dei personaggi Migliori di tutte le saghe Quindi va subito In Supreme Leader Cioè non esiste Lo adoro Allora questo mi sembra Il tizio di Di coso Di Di The Mandalorian Mi sembra lui Però non ne sono sicura Nel dubbio Lo mettiamo qua Jabba Vabbè Jabba deve stare Nella sua categoria Altra gente che non conosco Chi siete Jane Jane le voglio bene Però aspetta La mettiamo La mettiamo in droide Sì Qua altri robot A caso Chi se ne frega Same Subito Scala le classifiche Per favore Piazzati anche subito Prima di Tuo nonno Kylo 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 Ren È il mio personaggio Preferito di Star Wars Punto Ah questo è il cosino Di Di Solo Who cares Donald Glover Scusate Però va qua Va in droide Gli voglio bene Oppure la mettiamo No va qua Assolutamente Leia 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 più anziana Vabbè anche lei su Oddio con sta cosa che Ci sono troppi personaggi Sto facendo una fatica incredibile Subito Subito qua Le vogliamo bene Anche se l'hanno trattata molto male Quindi forse la dovrei mettere qua Sì Sì Gente inutile Luke anziano Io lo adoro Gli voglio proprio bene Forse un po' più di Luke Di Luke giovane Quindi guarda Dove è finito? L'ho perso qua Lo metterei quasi quasi In Supreme Leader Poi quella mossetta Che mi fai In episodio 8 Qua Ok Abbiamo capito La tizia Dove la mettiamo Qui In Jabba Questo Cioè Ho presente Ma chi se ne frega Same con questa Lo zio Inutile Questa è la sorella di Rose A me pare Chi se ne frega Ecco Fasma Si chiama Fasma Probabilmente no Però Fasma mi piace come personaggio La metterei in droide Po Gli vibbia Però Lo mettiamo in Gerai La tizia di Solo Anche qua Zero ricordi Dei nomi Lei può stare in droide Ci sta Qua Mostriciattoli Basta Who the fuck are you Who the fuck are you Ray BBB Scusate ma Ray Va su Va in alto Insieme a tutti gli altri Babufrick Babufrick è cute Gli voglio bene Però Però Non così tanto Lo metterei In droide Qua Non mi ricordo di te Neanche di te Anzi si No dai Lui è simpatico Lui lo mettiamo in giabba Ah il mostro gigante Chi se ne frega Lo mettiamo qua Gente improbabile Snoke Snoke Lo mettiamo in Giorgio Anche lui Questa Anche questa Cioè No Inutile Rose Allora Rose si meritava molto di più Non mi piace il suo personaggio Ma secondo me Potevano costruirlo meglio Quindi La metterò In In Dobba No Sì No No In droide Dai Dopo Babufrick Però Questo Who the fuck are you Who the fuck are you Questo tizio Me lo ricordo Ma chi se ne frega Lo mettiamo qua Questa La tipa Chi se ne frega Su qui Proprio non so Il wampa Il wampa Mi sta simpatico Mi piace come mangia Lo metteremo in giabba I cosini Gli ewok Dove li mettiamo Gli ewok Anche loro in giabba Secondo me ci sta No dai li metto in droide Li metto in droide Ci sta O chi c'è Altra gente che non mi ricordo Ma scusa Questo è Babufrick E l'altro chi era Non era Babufrick Ce ne sono due Avete sbagliato Mi sono sbagliata io Ah ma no Ma che stupida Ma non era Babufrick Questo qua Era tipo la scimmietta Che c'è in solo Ve l'ho detto Che non vedo niente Eh vabbè la scimmietta Veramente no Babu Scusa Scusa per averti confuso Però sono simile E io non ho gli occhiali Quindi E' tutto uguale Babu lo si mette in In droide Sorry Vabbè qua cos'è Lost Adesso Chi se ne frega Lando Allora Lando ha delle scene bellissime Nell'ultimo Star Wars Quindi scusate Ma io mi sento di metterlo qua Sto qui Veramente inutile Lei Lei mi piace Lei mi piace La metteremo Metteremo in droide Vi dirò Vi dirò Insieme a lei Non mi ricordo i nomi raga Però vabbè Pazienza La metteremo qui Poi chi c'è Oddio Carino lui E' tatone No in droide In droide Questo chi è Who the fuck are you Who the fuck are you Ok Abbiamo concluso In Supreme Leader Ho messo ovviamente Quelli che sono i miei personaggi preferiti In assoluto In assoluto Al primo posto Kylo Ovviamente Al secondo posto Anakin Perché vabbè Insomma Poi c'è Obi-Wan Leia E così via In Jedi Ho messo quelli a cui voglio Molto 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 bene E anche in droide Cioè personaggi che mi piacciono Poi dopo C'è tutta roba Che tipo Si ok ma E poi tutti quelli Che chissà chi sono Cosa hanno fatto Oppure si ce li ricordiamo Ma boh E niente Quindi così si conclude Questa mega classifica Di Star Wars E' storta l'inquadratura Più dritta adesso Boh Mamma mia Questo video è veramente All over the place Spero di non avervi fatto arrabbiare troppo Ripeto E' davvero una cosa Puramente basata Sui miei gusti personali Non ha niente a che vedere Con Con l'effettiva bellezza Dei film O qualità dei film O buona scrittura Dei personaggi Niente del genere Semplicemente appunto Io quanto ci sono legata Quanto mi piacciono E a questo proposito Ovviamente vi chiedo Di dirmi qua sotto Qual è la vostra classifica Di Star Wars Quindi film preferiti E personaggi preferiti Perché mi rendo conto Che almeno in Star Wars Io sono molto legata Ai personaggi principali Però ci sono moltissime persone Invece che diventano Super fan Tipo del personaggio secondario Che si vede Tre secondi E buon secondo me È una cosa molto carina Quindi insomma Fatemi sapere Quali sono i personaggi Che vi piacciono di più E niente vi ricordo sempre E comunque I link per Pampling Per Colvin E tutte le altre robe E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Grazie a tutti